Un processo infinito. Dobbiamo assolutamente superare l'impasse. Noi siamo stati partecipi in maniera attiva a tutto il procedimento. Non è certo stato a causa di Forza Italia che sono venuti meno quei voti essenziali a raggiungere il quorum. Adesso la volontà espressa dalla maggioranza di indicare candidature femminili ci trova assolutamente favorevoli. È ovvio che dobbiamo trovare due candidature che siano al di sopra di ogni sospetto.